La Commissione Universiadi, però si parla ancora di vitali su quello che bisogna attuare. Sì, ne parleremo quando si faranno le universiadi, perché noi arriveremo fino all'ultimo minuto sempre con problemi, quindi noi siamo concentrati per risolverli. Se no facciamo la cronistoria da qui a lui e non ne finiremo mai.